oggi mani ha fatto un bel passo avanti con ellie decisamente già ha lasciato le spiagge dell'incertezza e si è buttato a pesce. Splash! Florancioso eh? Visto come ha affrontato le sue paure. Non saprei, le sciabole non hanno paure. Odiamo, tutti gli animali hanno paura, è quello che ci divide da diciamo i sassi, i sassi non conoscono la paura e vanno a fondo. Dove vuoi andare a parare? Forse ti sorprenderà sapere che persino a me è capitato di provare paura. No, tu? Oh sì sì sì, per quanto sembra impossibile noi pradipi abbiamo dei nemici naturali che vorrebbero farci del male o addirittura ucciderci. Mi domando perché? Soprattutto per invidia, ma il punto è che la paura è naturale. La paura è per le prede. Allora stai permettendo all'acqua di fare di te una sua preda. Tuffati e confida nel tuo schifo. Stai, molti animali sanno notare già da piccoli. E per una tigre è un po' come quando striscia sulla pancia per avvicinarsi furtivo alla preda in difesa. Infretta però, artiglio, calcio, artiglio, calcio. Mi avvicino alla preda, artiglio, calcio. Ora mi guardo dietro le spalle per vedere se sono seguito e respiro. avanzo furtivo, avanzo furtivo e poi... E poi cado. Ti correggo, vai a fondo. A fondo come un sasso.